Guarda il coppio! Guarda il coppio! Guarda il coppio! Guarda il coppio! Cosa c'è Marco? Sì, c'è! Oggi per conto i brufoli! Chi si fa un coppio? Oggi c'è colarine! Colarine, a base di ormoni, elimina i brufoli, i punti neri, i peli sulle gambe e la barba! Allora Marco, come va? A di qua ti prendono ancora in giro? No, non mi chiamano più brufolini, già quando uso colarine mi chiamano Marisa! Ma caro, saluta la lavatrice! Leva la lavatrice, lava la mano! Con lava la mano! Con lava la mano, levi la lavatrice e levi lo sporco più porco dalle tue camicie! Sentilo anche tu! Lava la mano! Ehi Carlo, che bei capelli morbidi che hai! Certo, è un parrucchino! No? E allora ficcatelo bene in testa che è storto! Storto il parrucchino! Uffa, che mal di testa! Hai provato con nevragil? Sì! Ho provato! Niente da fare! Ah! Scegli l'occhio giù! Nevragil! Niente da fare! Niente da fare! Grazie! Grazie.